Non ti senti abbastanza forte? Per la serie i 10 motivi che tengono lontano le persone dall'arrampicata, ecco a voi oggi parliamo della forza. La prima idea che hanno le persone quando iniziano ad arrampicare o neanche pensano all'arrampicata, guardano gli altri e dicono ma quanta forza ci vorrà per fare quelle cose? Sì è vero, può essere uno sport di forza, molte persone la utilizzano per fare la forza, per sviluppare la forza. Però questo non vuol dire che l'arrampicata è per definizione uno sport di forza, ci sono alcuni che spingono sulla forza, altri che invece passano dalle domeniche fuori con la famiglia come faccio io. La forza che è necessaria per salire una parete è la stessa necessaria per camminare, quindi il primo requisito fondamentale per l'arrampicata è il camminare. Una volta che uno ha la forza per camminare può anche arrampicare, perché? Perché viene gestito il peso dalle gambe. E questo come tutte le cose di equilibrio, io faccio sempre esempio della bicicletta, non è che uno bisogna avere la forza per andare in bicicletta, eppure noi spostiamo il peso, quindi per spostare il peso uno pensa che deve avere la forza, no, è una questione di coordinazione, di schemi motori. Qui dobbiamo riuscire ad educare il nostro corpo a quegli schemi motori. È ovvio che all'inizio uno faticherà un pochetto, dipende ovviamente dalla didattica, ma piano piano vedrete che non si fatica più, se no come farebbero i bambini ad arrampicare? Le informazioni che ti arrivano dell'arrampicata, gli strumenti mediatici sono di chi vince la Coppa del Mondo, diciamo del ragazzo, dell'uomo che riesce a fare la via più difficile del mondo, ma quelli là sono gli estremi. È ovvio che se uno deve iniziare con l'idea che deve vincere la Coppa del Mondo, che deve fare una parete impossibile che nessuno finora abbia fatto, probabilmente si dovrà allenare tanto e dovrà anche faticare per arrivarci, però questo non vuol dire che è l'arrampicata. Quello è un modello di arrampicata, è un tipo di arrampicata, è dei professionisti. Ma questo, cioè, io per quanto mi riguarda, io ho scoperto nell'arrampicata un mondo piacevolissimo, un modo per passare le domeniche in giro per la natura, immerso nella natura, che non è neanche montagna, può essere mare, se non addirittura pareti sul mare e cadere in acqua. Ma questo non vuol dire che devono essere per forza difficili o che tu abbia bisogno per forza di forza. No! Questo è quello che a te appare perché è quello che viene trasmesso dalla maggior parte dei canali mediatici. Sono comunque di persone e dei professionisti, quindi non c'è bisogno di forza per arrampicare. Devi imparare solo a passeggiare, ovviamente dipende verso che scuola vai. Letto questo, iscrivetevi al canale YouTube di Marco Nescatelli e cliccate campanellina per rimanere aggiornati. Alla prossima!